Cari amici di Pronto e Servito, bentornati! Io sono Angelo e oggi prepareremo un contorno veramente facile da realizzare, ovvero dei finocchi grigliati alle erbe aromatiche e cotti nella friggitrice ad aria. Quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararli! Ma prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette e adesso possiamo iniziare! Allora come prima cosa ci occorreranno dei finocchi che andremo a pulire e poi a tagliare a fettine sottili di circa mezzo centimetro. Una volta tagliati tutti li trasferiamo all'interno di una terrina. Aggiungo poi un po' di olio extravergine di oliva e adesso aggiungo un po' di erbe aromatiche. Iniziamo con un po' di timo, un po' di salvia, un po' di origano e un po' di prezzemolo tritato. Aggiungiamo poi un po' di sale e aggiungiamo un po' di pepe. Inseriamo anche un pugno di pecorino. Se non vi dovesse piacere pecorino potete aggiungere parmigiano. E per finire aggiungiamo due bei pugni di pangrattato. E infine non ci resta che mescolare. Se il composto dovesse risultare troppo secco aggiungete ancora un altro po' di olio. E adesso possiamo trasferire il tutto all'interno del cestello della frigidrice ad aria. Aggiungiamo un filo d'olio e siamo pronti per infornare. Inforniamo a 200 gradi per circa 10 minuti. E una volta sfornati i nostri finocchi grigliati alle erbe aromatiche sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video!